Dentro una quotidianità sempre più pervasa dalla digitalizzazione, la Regione Marche avvia il progetto Bussola Digitale, un servizio che rafforzerà le pubbliche amministrazioni dotandole di facilitatori digitali, ovvero di addetti che aiuteranno quella fascia di cittadinanza ancora non allineata allo sviluppo tecnologico e informatico richiesto dai servizi pubblici attuali. Saranno 74 in tutta la Regione Marche, alcuni dei quali nell'Unione Pian del Bruscolo, in cui oggi è stato presentato il progetto. Prevedono la presenza di giovani facilitatori che in pratica che cosa fanno? Danno delle informazioni al semplice cittadino ma anche all'interno delle strutture comunali, degli enti, delle imprese per poter utilizzare a meglio questi strumenti dell'informatica, della digitalizzazione come ad esempio lo speed, come ad esempio tutte quelle piattaforme digitali che servono alle imprese per fare le domande per i bandi o anche al semplice studente universitario che vuole magari poi formare un curriculum per poi andare a fare delle domande nelle imprese. Quindi un uso abbastanza diversificato, ampio e che serve, ripeto, soprattutto abituare il singolo cittadino all'era della digitalizzazione perché non tutti, come il sottoscritto, abbiamo avuto l'opportunità di nascere nell'era cosiddetta era digitale, quindi è fondamentale che qualcuno ci aiuti a comprenderla meglio e da questo punto di vista per la prima volta sono i giovani che insegnano ai più grandi. Per l'Unione Pian del Bruscolo, i cui comuni sommano assieme 140.000 abitanti, si tratta di un valore aggiunto prezioso nei servizi d'accesso alla pubblica amministrazione. Oggi l'informatica è fondamentale per qualsiasi cosa, abbiamo vissuto questi due anni e passa con il Covid, abbiamo imparato, almeno quelli come me, ad usare gli strumenti a distanza, diciamo, e quindi anche le strutture, devo dire, ecco, poi le persone che oggi ormai vengono in comune e che non sanno utilizzare diventa un problema, o l'aiuto all'impiegato che c'è in comune, o se no, quindi è uno strumento importante per formare tutti gli addetti alle strutture dei comuni, all'unione dei comuni, quindi diciamo che è un buon inizio e noi ringraziamo, io sono abituato a ringraziare come succedeva una volta, perché se si fanno le cose buone, si fanno insieme e si aiuta la comunità a crescere, penso che sia un fatto positivo. Grazie.